Gentilissimi, ben trovati dopo la pausa del fine settimana. La ripresa su alcuni mercati europei continua, ma a ritmo più lento, mentre altri listini chiudono in rosso. Il focus degli investitori è rivolto alle prossime mosse delle banche centrali, soprattutto per l'accelerazione di oggi, che stupisce quella riguardante il petrolio, sopra gli 80 dollari massimi da inizio marzo. In scia al taglio della produzione da parte di OPEC+. Il nostro Fuzimib, vediamo come è andata a Piazza Fari, dopo un avvio che aveva un massimo che aveva toccato i 27.300 punti, si riduce sensibilmente e chiude in area 27.200 con un progresso del più 0,25% circa. È andata peggio a Francoforte, dove il DAX cede circa lo 0,30%. Anche a Wall Street l'avvio degli indici è contrastato. Il Nasdaq sta perdendo quasi un punto percentuale, rimarendo comunque sopra ai 12.000, mentre il Dow Jones si aggiudica mezzo punto sfiorando i 33.500. Quali potevano essere i titoli da acquistare oggi? Sicuramente quelli del comparto oil, quindi il trittico, Saipem, Eni si aggiudicano 4 punti percentuali e Tenaris a più 3,02 si trovano sugli scudi del Fuzimib. Tra i migliori di oggi troviamo anche Telecom e Unicredit. A causa dei timori sull'andamento dei tassi soffrono particolarmente i titoli del settore industriale e bancario. Iveco maglia nera sotto ai 2,5 punti. Rimanendo nello stesso comparto troviamo Prismian e Interpump tra i peggiori. Vendite su Monte dei Paschi a meno 1,80% circa e Fineco sotto al punto e mezzo. Dal Forex torna in grande forma l'euro sul dollaro americano che con un'accelerazione di circa mezzo punto riconquista quota 1,08 e 9. Pressoché stabili gli altri incroci con euro sterlina ed euro yen che stanno viaggiando grosso modo sui livelli registrati 24 ore fa. Ed ora linea l'esperto in collegamento oggi Giovanni Lapidari, uno dei protagonisti del prossimo evento in presenza, You Finance a Bologna. Ospite delle interviste di oggi di Trader Link, Giovanni Lapidari, trader analista. Daremo con lui uno sguardo ai mercati e soprattutto ti chiedo Giovanni una tua view per qualche giorno. A te la parola. Rossana buongiorno, ben trovate. Buongiorno a tutti i colleghi che ci ascolteranno in questo nostro breve intervento. La mia visione dei mercati è in questo momento concentrata a dividere le nostre strategie operative, questo almeno è il mio modesto suggerimento, in due binari ben differenti. Da un lato, se guardiamo ai movimenti di breve termine, questo recupero delle borse è stato, ed è bello violento, interessante, non credo sia ancora il momento per porre in atto con l'idea che trovo molto discussa leggendo interventi di trader privati sui forum, ovvero che il mercato è caro, che l'economia non va bene, che la borsa è soggetta a una manipolazione profonda, pertanto è da scioltare. Io non credo che sia il caso di posizionarsi a ribasso, credo che possa essere opportuno su molti titoli, non tutti. Andare anche a incassare qualche profitto, ad esempio per chi fa i mercati del tecnologico, in Italia abbiamo STM, non è che ci sono molti titoli sul nostro listino, in America ci sono tutti quelli dei semiconduttori, Nvidia, AMD, Intel, le stesse Apple, Meta, i titoli del tech che hanno relato molto, perché sul mercato c'è questa previsione che le banche centrali prima o poi dovranno rendersi conto che l'inflazione non c'è più, l'hanno distrutta magicamente con la recessione e quindi dovranno abbassare i tassi, una scommessa molto rischiosa, nel lungo non sono così ottimista, nel breve invece sono realista, bisogna non andare al momento attuale, oggi almeno, a contrastare questa salita, qualche ritracciamento, qualche presa di profitto c'è, noi facciamo questo video nella settimana che precede le vacanze pasquali, c'è anche un giorno in meno, potrebbe essere, potremmo andare incontro a qualche seduta di consolidamento, non mi aspetto cali brutali che potrebbero probabilmente, qualora fossero davvero brutali, essere e rappresentare una nuova occasione di acquisto a dei livelli più interessanti rispetto a questi che adesso sono un po' tiratucci. Perfetto Giovanni, io ti ringrazio, ma prima di lasciarti volevo sottolineare tematiche particolarmente interessanti che poi sarai ad approfondire all'incontro You Finance di Bologna del 14 aprile, giusto? Giusto, siamo a Bologna il 14 aprile, io ho un intervento che in realtà non è un intervento vero e proprio, una tavola rotonda con gli amici Nicola Para e Stefano Fanton, che sicuramente sono da tutti i colleghi che ci ascoltano ben conosciuti, professionisti di assoluto rilievo e persone molto a modino, come si suol dire, ci hanno chiesto di dar vita a una tavola rotonda sul tema dell'atteggiamento dei trader sui mercati, volgarmente sintetizzandolo, sulla psicologia dell'investitore. A me è un tema che è estremamente caro, mi piace molto, lo tratto quasi tutti i giorni sui miei video di YouTube perché trovo che quest'anno avere la capacità di sapere stare davanti al grafico senza essere troppo influenzati dalle dinamiche interne della psicologia nostra, cercando nel grafico solo un conforto per fare scelte razionali e non un padre o un psicologo perché il mercato e tantomeno il grafico che non parla, sono luoghi dove non si esercita l'affetto, neanche la psicologia, della cura dei nostri problemi. Questo penso che potrebbe essere sicuramente una scelta quasi obbligata per gli investitori che non vogliano prendere le legnate in faccia che hanno preso molti rialzisti prima della grande caduta di metà marzo e adesso i ribassisti con questo grande rialzo che ha vanificato le attese di un crollo che molti paventavano dopo lo scandalo che è in Suisse sui mercati e che invece sembra essere stato anestetizzato. Sulla moralità di quest'opera di anestesia io non entro nel merito semplicemente perché se voglio trovare moralità vado in chiesa, non vado sui grafici, sui mercati, sui mercati vado a fare altre cose. È un po' un piccolo anticipo, una spoileratura di quello che potrebbe venirmi in mente di ERA Bologna. Giovanni, sempre delizioso ascoltarti. Io ti ringrazio per il tuo intervento e rimando l'appuntamento quindi con te a Bologna al 14 aprile. Grazie ancora. Sarà un piacere, arrivederci a tutti. Grazie Rossana e Giovanni per il contributo, grazie a voi per l'attenzione. Non mi resta che ricordarvi di partecipare a You Finance, evento gratuito il 14 aprile. Vi aspettiamo. Un cordiale saluto a tutti voi. Arrivederci a tutti. Grazie.